Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso introduttivo ad Adobe Audition Questa è la seconda lezione Nella scorsa puntata abbiamo visto come funziona l'interfaccia di Audition Ma in realtà come funziona l'interfaccia un po' di tutti i software Adobe E oggi inizieremo un po' ad entrare nel vivo Ricordo che questa è la seconda lezione Anche questa lezione è gratuita Quindi aperta a tutti gli iscritti e non di questo canale YouTube Vi consiglio di abbonarvi a questo canale YouTube Perché dalle prossime lezioni i contenuti saranno disponibili solo per gli abbonati L'abbonamento costa solo 3 euro al mese Quindi ipotizzate di incontrarmi 3 giorni al mese E di offrirmi un caffè la mattina Alla fine parliamo di 3 euro al mese E l'abbonamento vi dà diritto ovviamente Oltre ad accedere a questo corso di Audition Anche al corso completo di Adobe Premiere Pro E al corso completo di Adobe After Effects Quindi un abbonamento che vi dà accesso a diversi corsi riservati per voi Bene, nella scorsa lezione abbiamo visto come funziona l'interfaccia di Audition Oggi entriamo un po' più nel vivo E iniziamo a resettare il tutto Quindi abbiamo detto finestra, spazio di lavoro Apriamo il preset predefinito E clicchiamo su ripristina, layout salvato In questo modo tutti noi avremo davanti agli occhi Le stesse cose, gli stessi pannelli Iniziamo con il pannello più importante di tutti Ogni applicazione Adobe ha il pannello Chiamiamolo progetto Chiamiamolo, non so, principale Il gestionale Ecco, comunque il pannello più importante In cui andremo sostanzialmente a caricare le risorse Con cui andremo a lavorare Audition ha questo pannello in alta a sinistra E si chiama banalmente file Ecco, questo è il pannello di Audition Dove noi andremo a caricare il materiale Con cui poi andremo a lavorare Come per Premiere, come per After Effects, come per Photoshop, per Illustrator Insomma, come per tutti i software Adobe Ci sono vari modi per importare del materiale dentro ad Audition Il primo metodo e il più semplice È fare doppio clic dentro al pannello file Doppio clic, si aprirà la finestra del vostro computer Potrete scegliere il vostro file e cliccare su apri E il file verrà importato C'è poi il solito vecchio La solita vecchia scorciatoia da tastiera Vado a dire CTRL E Anche qui aprirà la finestra di import Sceglierete il file o i file da importare Cliccate su apri e il file verrà importato Poi ancora c'è la possibilità di andare su file in alto Nel menu e scegliere la voce importa file E anche qui possiamo andare a scegliere un file e importarlo nel progetto Sono tre modalità differenti Potete scegliere quella che più vi aggrada Personalmente consiglio i tasti di scelta rapida CTRL E Usate la tastiera sempre il più possibile Perché è il modo migliore per accelerare il vostro workflow Bene, clicchiamo su apri Prendiamo un file E il file come potete vedere viene importato nel nostro progetto Anche se in audition forse è scorretto parlare di progetti in senso classico O comunque non sempre è corretto parlare di progetti Ma vedremo più avanti cosa sto intendendo Dicevo abbiamo importato il file E subito notiamo due cose Intanto che il file viene messo nel pannello appunto file Eccolo qui E poi viene aperta la sua rappresentazione grafica Nel pannello principale Ovvero nell'editor mainaudio.wave Nell'editor, chiamiamolo editor Che non è altro che il pannello che ci mostra La rappresentazione grafica Dell'onda che costituisce il suono contenuto all'interno del nostro file Ok? Quindi il file e la rappresentazione grafica del nostro file Non solo Se andiamo a vedere il file che abbiamo appena importato Troveremo una linguetta Eccola qua Se clicchiamo su questa linguetta Troveremo le due componenti Due canali audio Che in questo caso costituiscono questo file Ovvero il canale sinistro e il canale destro Perché? Perché il file che io ho appena importato È un file stereo Quindi come abbiamo detto nel corso introduttivo A Premiere Pro I file audio stereo hanno due canali Un canale che normalmente viene organizzato sulla sinistra E un canale che viene organizzato sulla parte destra Vedremo più avanti come è possibile separarli Perché magari abbiamo intenzione di lavorare solo un canale E non entrambi Però guardiamo l'editor Anche l'editor ci mostra i due canali audio Che compongono il file che abbiamo appena importato Vedete infatti che l'editor è diviso in due parti La parte superiore Eccola qui Costituisce il nostro canale left Quindi quello che vedete in alto È il canale di sinistra Quello che vedete invece in basso È il nostro canale di destra Una domanda che spesso magari si fa è Ma sono identici? Beh non proprio Immaginate un brano di musica Dove c'è una chitarra che magari suona a sinistra E magari a destra c'è un pianoforte Leggermente spostato magari a sinistra È chiaro che sono simili i due canali Ma specie nei file audio stereo Organizzati per suonare in maniera stereofonica Sono leggermente differenti Cambiano spesso i volumi E anche proprio i contenuti Quindi diciamo che normalmente sono molto simili Ma non sempre sono identici Ok? Se ovviamente state lavorando un file audio Relativo ad un parlato Come è in questo caso Ovviamente i due canali sono identici Ascoltate È cambiato e cambierà il modo di fare Di fare le serie televisive Ok come state notando È un parlato Non c'è un'organizzazione spaziale A sinistra e a destra del suono Quindi ovviamente in questo caso I due canali sono identici Ma se io avessi importato il file Così come l'ho registrato Con la videocamera Vediamo qual era Era questo qui se non ricordo male Noterete già che questi due canali audio Sono differenti Il primo canale Quello di sinistra Sembra essere più alto di volume Lo vedo perché chiaramente È più grande la forma d'onda Mentre il canale di destra Ha un volume più basso E lo noto perché la forma d'onda È più bassa Cosa sarà accaduto Ascoltiamo Della serie dedicata al signore Degli anelli Gli anelli del potere Ok come potete notare I due canali audio Sono simili Ma non sono identici Il canale di sinistra Ha l'audio ambiente Il canale di destra Ha l'audio registrato Con il mio microfono Ecco quello che intendevo dire Quando dicevo che Normalmente sono molto simili Ma non sempre sono identici Quando mandiamo in play Ah e per mandare in play Ovviamente potete utilizzare La barra spaziatrice Oppure il bottone play Che trovate qui in basso Eccolo qui Notate che nella parte inferiore Dell'interfaccia Avete a disposizione Quello che viene chiamato Il meter Che altro non è Che l'indicatore Del volume del vostro audio Guardate Mando in play E' una serie Che è costata Ok noterete appunto Come ci siano due barre Di colore progressivo Dal verde Al giallo E in fondo In fondo Al rosso Che sostanzialmente Ci descrivono Il volume Di quello che noi stiamo ascoltando Anche il meter E' organizzato Per riprodurre Il file Su due canali No? Noterete quindi Che quando mandano in play La parte superiore Del meter Relativa al canale sinistro La parte inferiore Del meter E' relativa Alla parte Destra Al canale destro Guardate I diritti Da autore 150 Ok E' importante Tenere d'occhio Il meter Sì Perché chiaramente Ci sono delle regole Per quanto riguarda I volumi Ma ne parleremo Più avanti Si può organizzare Il meter Per metterlo In un'altra parte Dello schermo Sì E' un pannello Come tutti gli altri Quindi potete Benissimo trascinarlo Per esempio E metterlo Al lato Se preferite Vedete anche qui La parte sinistra Riguarda il canale sinistro La parte destra Riguarda il canale destro Dicevo E' importante Tenere d'occhio Perché chiaramente Il volume E' uno degli aspetti Più importanti E forse più difficili Da gestire Quando lavoriamo Con l'audio Quindi Ricapitolando Abbiamo visto In questa lezione Come si importa Un file audio Come si legge Il contenuto Di un file audio Guardando I canali Che lo compongono E abbiamo dato Una prima sbirciatina Al meter Che è appunto Il pannello Più importante O meglio Uno dei pannelli Più importanti Che dobbiamo tenere Sott'occhio Quando lavoriamo Con l'audio In Adobe Audition Mi fermo qui Nel prossimo Video tutorial Vedremo Un altro modo Di lavorare Con Audition Ovvero Vedremo come si Gestisce Un ambiente Multitraccia E soprattutto Vedremo che cos'è Prima ancora Di vedere come si gestisce Un ambiente Multitraccia E a che cosa serve Se non vi siete ancora Registrati A questo canale YouTube Fatelo Molti contenuti Sono gratuiti E aperti Ovviamente a tutti Altri Come le prossime lezioni Di questo corso Base Di Audition Sono dedicati A chi si abbona Quindi l'abbonamento A questo canale Costa solo 3 euro Al mese Solo 3 caffè Che mi offrite È un modo Per aiutarmi A portare avanti Questo progetto Un modo Molto importante E quindi Ringrazio Fin d'ora Chiunque Si abbonerà E chi ovviamente Già si è abbonato A questo canale YouTube Al prossimo Video tutorial Ciao Grazie Grazie a tutti